musica 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 allora aspetta impulso che facciamo anche danni minchia non è andato via eh non lo vedo più neanche io beh facciamo così a caso ma se io voglio provare sto vector minchia no vabbè che male fa quello ma c'ho anche il cecchino vai torretta fagli il culo c'ho un cecchino che mi punta porca miseria due cecchini che mi puntano m m l'aero ho trovato un fucile da cecchino che è fenomenale finalmente un cecchino a livello del 15 no l'm1a è il migliore è il mio un m1a eh infatti è il migliore stabilità 10 colpi io ho messo anche il caricatore che aumenta la cadenza di fuoco spettacolo vero no scusami non è l'm1a scusami è l'm4 44 eh m44 da caccia se lo cinque colpi allora è prova l'm1a se lo riesci a trovare che è eh che uso l'm1a occio ci sono due cecchini in fondo avevo visto non è morto perchè mi sono allora vediamo se riesco a trovare mi li no ho un agente non ostile altro agente no aspetta perchè questi mi puzzano c'è uno sopra in alto e uno qua a sinistra ok questo è andato avanti ok esco da qua così si usa il cecchino ma aspetta c'è già un'estrazione no l'elicottero è diretto alla tua posizione così eh aspetta 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 via 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 che culo ce l'ho fatta ce l'ho fatta scappa via scappa ce l'hai fatta pazza si si ah l'ho già fatto ma c'è limite di estrazioni a 4 come come c'era nella beta a 30 quindi posso metterla in 30 ok si 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 c'è un sacco di oh madonna pazza però meno male che eri tu che ti sei messo davanti ok passo dopo a prendere ecco la fa il primo un'altra estrazione un'altra ma qua c'è altra gente da uccidere ah ok ok c'è anche un boss c'è anche un boss l'ho già fatto ottimo c'è un cassetto ma ma io li apro dove io andavo eh no ma dopo non scendo più da qua oh ma ce l'ho dietro ma anche ecco chi mi sta cosa ce l'abbiamo anche dietro e ce l'abbiamo anche dietro e ce l'abbiamo anche a sinistra ce l'abbiamo ovunque eh 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 porca droga ecco la cosa è preso dai 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 i dati nel cloud che io intanto mi saccheggio un po' le cose e qua c'è gente Oh, dietro ancora, porca miseria. Sì, c'è uscito. Sì, c'è uscito. Vaffa ancora, bomba incendiaria. Vai, minchia, ha tirato giù. Eh, c'è lancia a fiamme, basta. Minchia, ha tirato giù con la lancia a fiamme. Minchia, grado 9, cioè, sta facendo le cose più assurde. Skin, skin, skin. Niente, skin. Ah, porca te, vuoi che ti viene in una versione? Mi vedo che devo qualcosa di azzurro, spero in una skin. Eh, non me lo faccia a farlo. Vieni, vieni, indietro. Eh, porca, la gente che si mette davanti, ma veramente. Sì, ma che cazzo di squadrono della morte siamo? Sono tutti quanti che stiamo dando la cazza alla gente. Sì, ma che cazzo di squadrono della morte siamo? Sono tutti quanti che stiamo dando la cazza alla gente. Sì, ma che veramente. Beh, gli abiti non li droppo. Cioè, quelli ci sono indietro. Forse indietro a ripetere un po' le cose che mi hanno preso. Eh, infatti, questi. Dove sei pazza? Perché in tutto sto casino mi sa che ti ho perso. No, io sto scendo giù dal tetto. Guarda che c'è la discesa, secondo me. Perché ci sono un po' di drop là. Eh, tutta roba verde, la lascio stare. Sì. Ma c'è altra gente, è cattiva. No, no. Adesso lo rianimo. Eh, quando lo prendi, lo uccide. Cazzo. Come si è messo a vita? Eh, un po' così. Devo solo... Ma io mi sto divertendo un macello nella Dark Zone. Sì, è bella ragazzi. Cioè, veramente, è piena di nemici. Una volta anche dell'altra. Sì, no, veramente. Cioè, siamo strapieni. Non riusciamo a fermarci un secondo. E devo sparare. Mizzioni. Servono. Mi preoccupano più gli altri giocatori. E gli NPC sai cosa vogliono fare. Cioè, ma non hai detto cosa del mio nuovo... Della mia nuova MIS. Vieni a guardarmi. No, non guardami. Mi porto questa registrazione. È proprio vero. Ma non vengo apprezzato in questo clan di merda. Non c'hai il vestito da Brokart, te? Sì, ce l'ho. Però è orrendo. Cioè, è io che questo non vengo a che cavallo fa. Sì, è Barney Stinson. Io vedo il giubbotto viola di ombra. Oh, chi è che sta sparando qua? Ci hanno con me! L'ho visto, visto che ci stanno particolarmente sulle spalle. Oh! Oh! Non sono smontati questi. Adesso che è arrivata l'estrazione. Maledetti. Che mi ci butto. Non mi ci butto! Torno indietro! Vai, 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 vai che ti copro. Eh, ma muoro, muoro, muoro. Non hai trovato la cassa segreta che sta qui. Eh, no! Non ho detto che muoro. Eh, non ti sento, Alex. Cioè, non hai trovato la cassa segreta che sta qui? Tu sei andato ormai. No. Non arrivo, arrivo. Ti faccio una cassa segreta. Va bene, in teoria... Ah, non sono immortale mentre aggancio. Ho il culo. Dov'è? Sì, vabbè, ma basta. Via, 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 via. Scappare, arretra. Estrazione riuscita. Ah, no, ma gli abiti non erano da estrarre. Hai estratto il ferro? Guarda che estrae il ferro. Non ci credo. Il gesto della squadra ha bisogno di aver cerchiato. No, eh, eh. Eh, eh, eh. Cioè, sono da solo cerchiato. Ok. È morto. Pistolo blu, bene. Grazie. Va bene, rientro pazza. Siamo riusciti a fallire. Sì. Sì, no, eh. È che... È che ho fatto un buon effetto sulle... ...le... 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 ...già no ma io penso che... ...penso che... ...penso che spengo la pistola tra poco per te. Perché? Da me tocca. Eeeeee... ...le...